Ben ritrovati con una nuova puntata di Oroscopo Sicilia. Ariete. Oggi potresti sentirti un po' più emotivo del solito. È importante riconoscere i tuoi sentimenti e non aver paura di condividerli. In ambito lavorativo potresti affrontare delle sfide, ma la tua determinazione ti porterà lontano. Ricorda di mantenere la calma e di non lasciarti sopraffare. Le relazioni affettive richiedono attenzione. Un piccolo gesto può fare la differenza. Toro. Oggi ti sentirai particolarmente motivato a lavorare sui tuoi obiettivi professionali. La tua determinazione sarà palpabile e ti porterà a ottenere risultati concreti. È un ottimo giorno per chiedere feedback e collaborare con i tuoi colleghi. Non trascurare di celebrare anche i piccoli successi, che ti daranno la carica per andare avanti. Nel pomeriggio una pausa per riflettere potrebbe rivelarsi molto utile. Gemelli. La tua creatività sarà in primo piano oggi. Potresti avere nuove idee brillanti da proporre, sia in ambito lavorativo che personale. Non aver paura di sperimentare. I tuoi sforzi potrebbero sorprendere tutti. Attenzione però a non esaurirti. Concediti delle pause. Le interazioni sociali si riveleranno stimolanti, quindi approfittane. Cancro. Un'ottima giornata per concentrarti su te stesso e sul tuo benessere. Potresti sentirti motivato a intraprendere nuove abitudini salutari. Un'attività fisica leggera, come una passeggiata nel parco, ti farà bene. Inoltre potresti scoprire nuovi hobby che ti appassionano. Non trascurare il tuo spazio personale. Crea un ambiente accogliente. Sii gentile con te stesso e concediti qualche coccola. Leone. La tua vita sociale sarà il centro dell'attenzione. Potresti ricevere inviti o eventi o incontri interessanti. Sfrutta al meglio queste opportunità per espandere la tua rete. Le connessioni fatte oggi potrebbero rivelarsi molto utili in futuro. È un buon momento per condividere le tue passioni con gli altri. Le conversazioni possono portare a intuizioni preziose. La serata promette risate e divertimento con gli amici. Vergine. La tua energia sarà contagiosa, attirando le persone verso di te. Potresti ricevere riconoscimenti per il tuo duro lavoro. Sfrutta questa positività per costruire relazioni professionali e sociali. In ambito lavorativo le tue proposte saranno ben accolte. Non dimenticare di ringraziare chi ti sostiene. Un gesto di gratitudine può rafforzare i legami. In serata organizza una cena con amici o familiari per celebrare i tuoi successi. Bilancia. Oggi la tua vita sociale sarà il centro dell'attenzione. Potresti ricevere inviti a eventi o incontri che stimoleranno la tua curiosità. Si è aperta a nuove connessioni. Potrebbero portare opportunità inaspettate. La comunicazione sarà chiave, quindi esprimiti liberamente e ricorda di ascoltare anche gli altri. Scorpione. Oggi porterà con sé una maggiore chiarezza mentale. Sarai in grado di prendere decisioni importanti sia nella vita personale che professionale. Un'idea creativa che avevi accantonato potrebbe riemergere portando a nuove opportunità. Non esitare a condividerla con chi ti circonda. Le relazioni con i familiari saranno più armoniose. Approfitta di questo tempo per rafforzarne i legami. Sagittario. Un giorno di attivismo e iniziative. La tua voglia di migliorare le cose sarà palpabile. Potresti sentirti chiamato a partecipare a cause sociali o a progetti comunitari. Lavorare con gli altri porterà gratificazione. Le tue capacità di problem solving saranno messe alla prova ma avrai successo. Approfitta di questo slancio per apportare cambiamenti significativi nella tua vita. Capricorno. La creatività è al massimo oggi quindi approfittane per esprimerti. Se hai un progetto artistico professionale in mente è il momento giusto per metterlo in atto. Le idee scorreranno fluide rendendo il lavoro più piacevole. Tieni d'occhio anche ai dettagli. Una piccola attenzione può fare una grande differenza. In amore la complicità con il partner sarà molto intensa. Acquario. Oggi sarà un giorno di riflessione interiore. Potresti sentirti attratto da pratiche spirituali o di meditazione. Approfitta di queste opportunità per connetterti con te stesso e chiarire i tuoi pensieri. Le intuizioni che ricevi oggi potrebbero rivelarsi preziosi per il futuro. Fai attenzione ai segnali che ti invita, che ti invia il tuo istinto. Potresti anche ricevere supporto da qualcuno che condivide le tue idee. Pesci. La giornata si prospetta un po' più calma, perfetta per ricaricare le batterie. Dedica tempo a te stesso, magari leggendo un buon libro o praticando un hobby. Le relazioni con i familiari potrebbero richiedere la tua attenzione. Ascolta le loro esigenze e offri supporto. In campo lavorativo evita di prendere decisioni affrettate. La pazienza sarà la chiave per ottenere risultati migliori. Anche questa puntata di Oroscopo Sicilia si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Grazie. 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 Grazie.